Musica Buongiorno, buongiorno, pochi minuti alle 12 al momento dell'informazione su TV 2000, vediamo i titoli Udienza generale questa mattina in piazza San Pietro, dedicata alla Pasqua, la festa più importante, ha detto Francesco e poi l'invito a pregare per i mafiosi che si dicono cristiani Allarme e terrorismo in Italia, nuovo arresto a Torino, misure straordinarie per Pasqua, minaccia mai così forte, ha detto il ministro dell'interno Marco Migniti I Libano, musulmani e cristiani insieme invece celebrano la festa dell'annunciazione, giornata di festa nazionale dal 2010 quest'anno, prevista anche una celebrazione all'interno del palazzo presidenziale E dunque in apertura c'è l'udienza generale oggi dedicata al Triduo Pasquale e alla festa della resurrezione Tanti fedeli riuniti in piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Francesco e allora anche noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili per tutti gli aggiornamenti Buongiorno Buongiorno a te Beatrice, ai nostri telespettatori, erano esattamente 12.000 circa i fedeli che si sono riuniti alle mie spalle in piazza San Pietro per l'udienza terminata circa un'ora fa 12.000 di cui 3.000 giovani provenienti da 150 università del mondo per l'incontro Unive 2018 promosso dall'Opus Dei, forse il gruppo decisamente il più rumoroso Pasqua è la festa più importante dell'anno, anche se molti pensano che sia il Natale così pure Francesco pensava così, il giovane Bergoglio fino ai suoi 15 anni di età ha raccontato Papa Francesco Pasqua non finisce però con le colombe e le uova così ha detto Francesco parlando del Triduo Pasquale cioè i tre giorni che iniziano domani sera con la messa in cena domini con la banda dei piedi che il Papa celebrerà nel carcere romano di Regina Celi qui vicino il Triduo Pasquale compreso tra messa in cena domini e i vespri della domenica di Pasqua nella veglia pasquale di sabato Francesco ha rivelato anche battezzerà 4 adulti scusate 8 adulti il Triduo Pasquale segna le tappe fondamentali della nostra fede dice Francesco ascoltiamo alcune sue riflessioni un cristiano severamente si lascia lavare da Cristo severamente si lascia spogliare da Lui dell'uomo vecchio per camminare in una vita nuova pur rimanendo pecatore perché tutti ne siamo non può più essere corrotto la giustificazione di Gesù ci salva dalla corruzione siamo pecatori ma non corrotti non può più vivere con la morte nell'anima neanche essere causa di morte il cristiano non può vivere con la morte nell'anima neanche essere causa di morte pensiamo per non andare lontano pensiamo a casa pensiamo ai cosiddetti cristiani mafiosi ma questi di cristiano non hanno nulla si dicono cristiani ma portano la morte nell'anima e agli altri preghiamo per loro perché il Signore tocchi la loro anima Francesco ha ricordato anche la consuetudine che c'è in alcuni paesi di salutarsi tra amici e conoscenti dicendo Cristo è risorto proprio nelle giornate di Pasqua poi c'è un'altra consuetudine che lui ricorda dai tempi di quando era bambino una consuetudine che c'è in Argentina anche in altri paesi una bella usanza ce la racconta lui stesso ascoltiamo in tanti paesi qui in Italia anche nella mia patria c'è l'abitudine che quando il giorno di Pasqua si sentono si ascoltano le campane le mamme le nonne portano i bambini a lavarsi gli occhi con l'acqua con l'acqua della vita per fare un segno di poter vedere le cose di Gesù le cose nuove lasciamoci in questa Pasqua lavarci l'anima lavarci gli occhi dell'anima per vedere le cose belle e fare delle cose belle e questo è meraviglioso questa è proprio la risurrezione di Gesù dopo la sua morte che è stato il prezzo per salvarci tutti noi e nel lasciarvi questi pensieri formulo a tutti voi i più cordelli auguri di una lieta e santa Pasqua insieme con le vostre comunità e i vostri cari e vi consiglio la mattina di Pasqua portate i bambini al rubinetto e farli lavare gli occhi sarà un segno di come vedere Gesù risorto grazie infine una notizia che è arrivata ieri in tarda serata nel pomeriggio di ieri Papa Francesco ha fatto visita al Papa Emerito per scambiare gli auguri di Buona Pasqua dal Vaticano è tutto grazie Paolo noi continuiamo con la politica tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle ieri in un botta e risposta a distanza al centro delle polemiche ovviamente la nomina a Primo Ministro Augusto Cantelmi la poltrona di Palazzo Chigi e i rapporti con Berlusconi sono i due grandi ostacoli all'alleanza tra 5 Stelle e Lega per la formazione del governo Salvini e Di Maio dopo il botta e risposta di ieri appaiono al momento mai così distanti con il leader pentastellato che rivendica la Premiership oppure non si fa niente il capo del carroccio che ribatte fai un passo indietro e nessun veto sul Cavaliere a meno di una settimana dall'avvio delle consultazioni al Quirinale il quadro resta quanto mai confuso e lo schema vincente per le presidenze delle Camere potrebbe saltare aprendo la strada ad altre soluzioni con il ritorno in scena magari del Partito Democratico ipotesi subito bocciata dalla Lega si attende ora il primo faccia a faccia ufficiale tra Salvini e Di Maio previsto per dopo Pasqua ai quali la maggioranza degli italiani secondo quanto riporta un sondaggio chiede di formare un governo sui programmi Salvini si dice pronto a studiare il reddito di cittadinanza proposto da Grillini in campagna elettorale la Lega aveva proposto invece il reddito di avviamento al lavoro ossia una forma di prestito destinato a chi è in attesa di trovare un'occupazione Arrestato a Torino un militante dell'Isis si tratta di un giovane marrocchino già arrestato nel 2015 stava studiando come preparare un camion per compiere un attentato minaccia Isis mai così forte dice invece il ministro dell'interno Marco Minniti Leonardo Possati Uno scenario che non è uguale in Occidente è paragonabile solo a quanto accade nel profondo dell'Iraq e della Siria dove i bambini vengono addestrati a uccidere gli infedeli così il ministro dell'interno Marco Minniti commenta sulla stampa il pericolo jihadista nel nostro paese dopo l'arresto di ieri a Foggia di Abdel Rahman Moui imam egiziano che indottrinava i bambini a uccidere i non musulmani questa mattina all'alba la Digos di Torino ha arrestato Helma Di Halili 23enne marocchino naturalizzato italiano e residente a Cirie alle porte del capoluogo piemontese il giovane già conosciuto dalle forze dell'ordine nel 2005 era finito in un'inchiesta della procura di Brescia con l'accusa di diffusione di materiale di propaganda a favore dell'Isis all'epoca patteggiò e si beccò due anni con la condizionale oggi è stato arrestato con l'accusa di partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico secondo gli investigatori in questi anni Helma Di Halili avrebbe proseguito nel suo percorso di radicalizzazione nonostante la sentenza del 2005 e avrebbe addirittura intensificato la sua attività con lui infatti sono finiti nella rete degli investigatori altri stranieri ed italiani convertiti all'islamismo attivamente impegnati in una campagna di radicalizzazione e proselitismo condotta soprattutto sul web durante le perquisizioni è stato sequestrato numeroso materiale tra cui diversi filmati di cruente esecuzioni operate nei confronti degli infedeli ma anche video nei quali si inneggia gli attentatori di Parigi e di Bruxelles ci sono poi sermoni di predicatori musulmani carichi di odio e violenza oltre a Torino questa mattina sono scattate 13 perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di appartenenti agli ambienti dell'estremismo islamico in diverse città italiane tra le quali Milano Napoli Modena Bergamo e Reggio Emilia ed è iniziata pochi minuti fa la celebrazione dei funerali di Fabrizio Frizzi il conduttore gentile della televisione italiana morto pochi giorni fa per una emorragia celebrale ringraziamo il TG1 per le immagini che vediamo ora in diretta dalla chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma ieri come oggi migliaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi in 10.000 si stima siano andati ieri alla Camera Ardente alla Sederai di Via Mazzini tanti personaggi dello spettacolo della televisione ma anche tanta gente comune che conferma proprio la semplicità e la grandezza insieme di quest'uomo parliamo adesso cambiamo argomento parliamo adesso di tecnologia e scuola secondo una ricerca internazionale gli alunni più digitali randono meno tra i banchi un uso esagerato dei computer nel tempo libero insomma rischia di incidere negativamente sul rendimento scolastico Alessandra Camarca tablet tablet smartphone computer ragazzi e bambini non possono farne più a meno al posto di partite di calcetto e giochi spensierati nel parco i più giovani preferiscono lo schermo attività che permette ai genitori di occuparsi di altro mentre i loro ragazzini sono rapiti da internet niente di più sbagliato i figli si sentono messi da parte ne risente anche il loro rendimento scolastico da qui l'allarme e la conferma che arriva dei numeri trascorrere troppo tempo con essi non solo fa male ma fa anche diventare asini a scuola lo dicono i risultati del Teams l'indagine del 2015 su competenze matematiche e scienze dei bambini di quarta elementare e dei ragazzini di terza media di mezzo mondo le performance migliori vengono fornite dai ragazzi che si tengono a distanza dal computer e tablet nei pomeriggi passati a studiare per il giorno successivo estrapolando dall'enorme database di Teams i dati sulla permanenza degli alunni davanti ai computer si nota che per ottenere buoni risultati basta studiare ancora sul vecchio libro di testo un trend che soprattutto alla primaria è sorprendente all'elementare in matematica i bambini italiani totalizzano nel complesso 506 punti ma quelli che non lo usano quasi mai per svolgere i compiti a casa raggranellano 522 punti e i loro coetanei che invece usano computer e tablet ogni giorno si fermano a 481 punti una differenza di oltre 40 lunghezze l'esposizione ideale alle tecnologie per i consorzi o di studiosi analisti di tutto il mondo che cura il rapporto è di una o due volte al mese molto meno della media attuale che fare per i pedagogisti non ci sono dubbi i genitori devono imparare a dire di no ad usare il tempo in cui il bambino può utilizzare il tablet e ad essere presenti e commentare con loro contenuti ed immagini più faticoso? certo ma indubbiamente più sicuro e costruttivo anche per i voti in matematica e ci spostiamo adesso oltre oceano 90 militi ignoti argentini hanno finalmente trovato pace si è conclusa infatti la prima fase di riconoscimento delle vittime della guerra delle malvine commovente la cerimonia con i parenti che si è svolta nel cimitero di darwin Clara Iatosti in un piccolo cimitero del profondo sud dell'Atlantico echeggiano pianti e grida di una madre il suo ragazzo è morto nel 1982 nella guerra lampo delle malvine per la prima volta dopo 36 anni assieme ad altri 200 familiari di caduti può inginocchiarsi davanti alle tombe delle vittime di quel conflitto inutile di quel braccio di ferro tra Gran Bretagna ed Argentina per la sovranità di questo fazzoletto di terra è un'emozione forte nuova confessa sommessamente da Lalla Masada madre di Marcello perché ho trovato mio figlio ho potuto parlare con lui fare domande ho condiviso i miei sentimenti con lui il mio dolore e provo una sensazione di pace perché ora so dov'è nel 2012 la Croce Rossa internazionale ha cominciato ad analizzare 122 serie di resti umani sepolti nel cimitero di Darwin in guerra erano morti 255 militari britannici e 650 argentini ma la maggioranza delle lapidi recitava soltanto soldato argentino noto solo a Dio oggi 90 di queste croci bianche hanno un nome grazie ai test del DNA ma anche grazie al prezioso aiuto dell'ex colonnello di sua maestà Geoffrey Cardoso che con amore ha raccolto i corpi sui diversi campi di battaglia lui si è schermito sono tutti i miei figli ha detto il segretario di Human Rights Argentina Rui l'ha voluto ringraziare a nome di tutti così si chiude afferma e onoriamo un debito che avevamo con le famiglie con i nostri eroi delle malvine Il Libano adesso dove per la prima volta oggi cristiani e musulmani celebrano insieme la festa dell'annunciazione sentiamo Marco Buri O Maria e Dio t'annunzia la buona novella di una parola che viene da lui e il cui nome sarà il Cristo Gesù figlio di Maria no non è un passo del Vangelo ma del Corano la sura della famiglia di Imran eppure ci suona familiare per forza l'annunciazione cioè il mistero di un Dio che si fa carne nasce da donna certo questa non è la fede dell'Islam eppure i musulmani hanno sempre avuto grande venerazione per Maria di Nazareth a tal punto che già da otto anni in Libano la solennità dell'annunciazione è festa nazionale l'altro giorno il presidente Aoun ha aperto il palazzo presidenziale al patriarca siro ortodosso ai vescovi delle diverse confessioni cristiane e ai rappresentanti del mondo musulmano sciiti e sunniti nella figura di Maria le tante voci della società libanese trovano una sintonia quanto mai preziosa in un momento in cui il Libano è minacciato da spinte settarie che usano volentieri la religione per alimentare la discordia e che potrebbero aumentare in vista delle elezioni del prossimo 6 maggio ma intanto in questo solco si inserisce la Giordania da sempre paese tra i più aperti e tolleranti del mondo islamico proprio oggi autorità civili imame prelati si riuniscono ad Amman per una celebrazione comune nel nome di Maria vogliamo mostrare i punti in comune fra cristiani e musulmani ha detto il vicario del patriarcato latino ad Amman William Shomali nel settembre di due anni fa il re Abdullah parlando all'assemblea dell'ONU aveva sottolineato l'importanza di Gesù e Maria nel Corano per attaccare gli estremisti islamici che nascondono deliberatamente queste verità per separare musulmani e non musulmani separare dividere gli uomini dagli uomini Dio dagli uomini esattamente il contrario del mistero dell'annunciazione il telegiornale finisce qui grazie per averci seguito arrivederci grazie per averci seguito